Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Tornato libero Giacomo Ciriello, il giovane di Lucignano che nel 2017 sparò al padre uccidendolo. Era già stato dichiarato incapace di intendere e volere e adesso non sarebbe più socialmente pericoloso. Il servizio dichiara Sadotti. Non è più ritenuta una persona socialmente pericolosa. Giacomo Ciriello da oggi è così libero e non dovrà più essere sottoposto ad alcuna vigilanza. A stabilirlo sono stati i professionisti sanitari che lo hanno seguito in questi anni. Era la notte tra il 26 e il 27 febbraio del 2017 quando il giovane di Lucignano, all'epoca sedicenne, imbracciò il fucile ed esplose un colpo contro il padre Raffaele uccidendolo. Fu poi lo stesso ragazzo a chiamare le forze dell'ordine per costituirsi. Venne dichiarato affetto da una patologia della personalità che lo aveva reso incapace di intendere e volere. Quella terribile notte avrebbe agito in preda ad uno scompenso psicotico delirante. Il processo a suo carico non venne così mai aperto in quanto non era giudicabile penalmente. Poco più che 18enne venne affidato ad una casa famiglia in provincia di Prato dove ha seguito un percorso riabilitativo e di rinserimento nel corso del quale si è anche diplomato e da dove adesso è uscito per iniziare una nuova vita senza restrizioni. E adesso spostiamoci ad Arezzo. In piazza della Badia torna ad accendersi la polemica. I residenti hanno scritto al primo cittadino chiedendo più attenzione. Vediamo. Perchè non si dorme? Brutto per tutto. Non si può dormire. Sono nuovamente i residenti esasperati della centralissima piazza della Badia a denunciare quanto accade qui ogni fine settimana e a chiedere di essere ascoltati anche tramite una lettera inviata al comune di Arezzo. Come si presenta il sabato mattina questa piazza e questa stessa? È male. Meno male c'è l'Aisa che arriva presto e ripudiscono tutto. Abuso di alcol, schiamarsi sino all'alba e le strade che si trasformano in bagna a cielo aperto. È ancora questo il racconto che arriva dai residenti della zona, la piazza della Badia, via del Saracino, da via dei Pecori a via Saffi, dove tra l'altro sono presenti alcune strutture ricettive. I clienti cosa dicono? I clienti quando c'è la sala mattina parecchio va via senza che pagare. Una residente ha così preso carta e penna e scritto una lettera al sindaco a nome del comitato spazi al centro. Durante gli altri giorni è una zona tranquilla e quindi insomma non ci si può lamentare. Il sabato, il venerdì e sabato c'è questi ragazzi che non hanno limite. Il problema, secondo i residenti, si sarebbe aggravato in quest'ultimo periodo complice la maxiaria pedonale nel centro storico di Arezzo, iniziata tra l'altro in piazza della Badia tra zuffo e denunce. Un'istantanea, quella scattata dal comitato, non condivisa però da tutti. Ci sono tanti ragazzi che si ritrovano fra amici, fine settimana si bevono una cosa insieme e fanno due chiacchiere. Come ho sempre detto, la confusione altro non è che come io sto parlando ora con questo microfono, lo moltiplichiamo per 500 persone, un pochino di vociare c'è. Alle 2 i bar chiudono, alle 2 e 10 già non c'è praticamente nessuno. E adesso spostiamoci in Valdarno, il CDA della FIMER. Questo pomeriggio ha incontrato dipendenti e sindacati alla luce del comunicato di ieri con il quale annunciava di voler cedere al fondo inglese Clementi. E intanto arriva anche una buona notizia per un'altra azienda storica del territorio. Sono infatti 2.400 i dipendenti aretini del gruppo Prada che beneficeranno del premio di risultato ottenendo un incremento da 1.350 a 1.150 euro in busta paga. Sono questi gli effetti dell'accordo riguardante il premio di risultato siglato tra il gruppo e i rappresentanti dei sindacati che proprio nelle ultime ore hanno fatto sapere come per la prima volta nella storia della holding sia stata trovata una mediazione accolta all'unanimità. E torniamo ad Arezzo. Sta meglio il cinquantenne colpito da un infarto e salvato da un giovane scout. Questa mattina è stato dimesso fuori dal reparto quello che lui ha definito il suo angelo custode. Se montavo in macchina, se andavo a letto, se non c'era Alessandro, eppure se uno ci pensa bene io ogni tanto mi ci soffermo, cioè sono delle coincidenze proprio, vuol dire che devo andare così diciamo che bisogna dire, il mio angelo custode lui sarà sempre il mio angelo custode. Lo scorso venerdì gli ha salvato la vita e oggi era lì ad attenderlo fuori dal reparto nel giorno delle dimissioni. Che emozione è incontrare Marcello? Ormai ci conosciamo comunque grande e appunto ti fa commuovere. Marcello, 52enne e aretino, era stato colpito da un infarto improvviso fuori dalla parrocchia di San Marco la Sella dove si festeggiava la fine dei campi solari. Nel parcheggio si era casciato a terra. L'ultima cosa è che io dovevo prendere mio figlio e portarlo via. Poi per me è vuoto. E dopo mi sono ritrovato qua nella stanza Utic. Ero tutto abbastanza addolorante. Dico, che sarà successo? Dopo invece è passato all'infermiera e mi ha spiegato che ero un miracolato. Providenziale l'intervento di Alessandro, un ragazzo di 16 anni diviso tra studio, frequente il liceo classico, l'impegno con gli scout in parrocchia. Dopo la chiamata al 118 in attesa dell'arrivo dei sanitari, il ragazzo ha infatti iniziato il massaggio cardiaco, poi ha afferrato il defibrillatore, come aveva imparato a scuola. Dove hai trovato il sangue freddo per intervenire immediatamente? Eh, sinceramente non lo so neanche io. Anche questo è un po' che me lo chiedo. Sicuramente è una questione di carattere, ma anche la situazione che o facevo qualcosa o probabilmente non saremmo stati qui a raccontare. All'arrivo dei soccorritori il battito era ripartito. Un intervento perfetto lo definiscono i sanitari. Ho dimostrato un grande sangue freddo perché abbiamo avuto la registrazione di tutti i tracciati e veramente tutto si è svolto in pochissimi minuti. E questo è stato essenziale proprio per garantire questo risultato e il recupero, diciamo, completo delle condizioni precedenti. A Marcello è stato applicato un pacemaker e oggi potrà tornare alla sua vita con la volontà di imparare anche lui ad usare il defibrillatore. È una cosa che consiglierò ai figli, a tutti. Secondo me dovrebbe diventare obbligatorio. E adesso parliamo di scuola. Crediamo che l'inizio dell'anno scolastico previsto per venerdì 15 settembre sia uno spreco di energie e di denaro ingiustificato, oltre che un danno per il settore del turismo che si vedrebbe tagliare una settimana di attività. A dirlo sono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi, che hanno presentato una mozione in Regione Toscana affinché l'ufficio scolastico regionale si attivi per far iniziare l'anno scolastico 2023-2024 il 18 settembre e negli anni a venire nel giorno di lunedì. La mozione è stata apprezzata da tutte le forze politiche ed è passata all'unanimità. E adesso spostiamoci in Val di Chiana perché domani si apre il Festival Internazionale di Fotografia Cortona On The Move. Fino al 1 ottobre la città etrusca sarà protagonista della fotografia d'autore. Un'indagine sulla contrapposizione tra abbondanza e scarsità, superfluo ed essenziale, élite e masse, accumulo e dispersione. More or less è il titolo della tredicesima edizione di Cortona On The Move che si apre domani alle 18 in Piazza Signorelli a Cortona. Oltre 30 agli artisti, 26 le mostre, 80 i giorni di festival. Delle mostre inedite prodotte da Cortona On The Move, delle mostre che hanno tra gli artisti più conosciuti la fotografia come questa dove mi trovo in questo momento di Larry Fink, artista americano di cui facciamo una retrospettiva unica, prodotta per noi con tanti inediti qui a Cortona, a mostre come abbiamo la stazione Cia a Camuscia sui 50 anni del rap. Il rap visto attraverso i più grandi fotografi che hanno fotografato questa musica fatta dai più demoniti, dai più poveri, mi accaspirava e veicolava i valori di una ricchezza a cui si ambiva. Io sono particolarmente felice di questa edizione perché siamo riusciti con Veronica Nicolardi, che è la direttrice, a fare un'edizione che ci dà una gioia sulle perle che abbiamo trovato, sulla fiducia che i fotografi ci hanno dato, sulle co-curatele che abbiamo portato, perché abbiamo una collaborazione sia con i nostri sponsor, sia con le istituzioni, sia con i vari premi fotografici, che veramente Cortona Move diventa il festival di fotografia più internazionale che abbiamo in Italia. Fino a domenica, 16 luglio, sarà un susseguirsi di eventi e iniziative. Offriremo quindi nei giorni di inaugurazione eventi che spaziano dalle letture portfoglio per i professionisti del settore, a eventi come un DJ set in Piazza Signorelli del grande rapper italiano Frankie Energy e talk che coinvolgeranno esperti anche del mondo della televisione. Avremo, grazie a Medici Senza Frontiere, un racconto di Diego Bianchi sulla sua esperienza sulla nave di Medici Senza Frontiere. Riccardo Stagliano e Michele Smargesti che ci aiuteranno ad approfondire quelle che sono le tematiche di More Orless affrontate quest'anno dal festival. Avremo anche uno spazio off dedicato a tutto il pubblico del festival che offrirà eventi gratuiti e vi invito a passare a ritirare una foto ricordo di voi o della vostra famiglia ritratta da alcuni dei fotografi partecipanti all'edizione del festival. Quest'anno proporremo anche delle attività per i bambini, sono delle attività molto speciali perché prevedono il coinvolgimento di Gabriele Galimberti, famoso per il suo progetto Toy Stories, che fotograferà all'interno del bookshop sotto le loggie del teatro per i giorni di inaugurazione i bambini con il loro giocattolo preferito. Le mostre sono allestite tra il centro storico, la fortezza medicea del Girifalco e la stazione C accanto alla stazione ferroviaria di Camucia Cortona. Sponsorizziamo in maniera convinta questa iniziativa perché porta risultanze molto positive in termini turistici non solo, ma quello che a noi piace è il fatto che vengono riqualificate zone e comunque data visibilità a zone del territorio a partire dalla stazione di Camucia con il primo step che il turista o chi arriverà potrà visitare per arrivare fino al centro storico e alla fortezza del Girifalco. Da non meno la via Santa Margherita, la via Cruscita di Cortona che quest'anno vede appunto la mostra lungo il proprio tragitto. L'estate è a retina nel segno dell'opera. Dal 19 luglio al 22 luglio si tiene ad Arezzo la prima edizione del Di Opera Seme Festival che coinvolge 22 cantanti americani e italiani, 12 docenti e 15 musicisti. Il servizio. 20 cantanti americani, 4 docenti e 15 musicisti. Ad Arezzo sarà così un'estate con la grande opera. Dal 19 al 22 luglio è in programma la prima edizione di Opera Seme Festival, quattro giorni dedicati all'opera con un festival inedito legato alla voce e al bel canto. Abbiamo voluto aprire questo festival con degli artisti che stanno seguendo dei percorsi professionalizzanti e che vengono da circa 15 università americane e presenteranno queste opere complete quindi il pubblico potrà assistere all'opera completa di Suor Angelica di Puccini come di Giulio Cesare di Endel, un cast anche seguito da professionisti del mondo operistico da Mario Cassi, da Eva May, ma avremo anche degli esponenti americani come Blighty Geyser del Metropolitano Opera di New York che sarà qua per una masterclass, il nostro Gianni Santucci che ha accolto appunto questo di essere presente come coreografo e farà una masterclass aperta al pubblico e Mario Cassi che è tra gli insegnanti di Opera Seme. Opera Seme Festival nasce dall'incontro tra l'Italia e gli Stati Uniti con l'obiettivo di aprirsi sempre più a cantanti informazione e insegnanti europei ed internazionali per offrire forme di spettacolo innovative che guardino anche al passato e alla grande tradizione dell'opera lirica italiana. La cosa più bella è portare in città di grandi talenti, in questo caso poi americani che varcano l'oceano, stanno qui con noi un mese, vivono ad Arezzo, non ultimo spendono ad Arezzo questa è una cosa che secondo me anche l'economia dovrebbe valutare ma soprattutto vogliono imparare la nostra cultura e ragazzi questa è la cosa più emozionante. E ancora un appuntamento culturale perché a San Giovanni Valdarno il 19 luglio alle 21.30 in piazza Masaccio arriva Francesca Michelin, un concerto organizzato dal comune in collaborazione con il Mango Music Fest, Arezzo Music Fest, che sta richiamando pubblico da tutta la Toscana e non solo. La cantante porterà a San Giovanni Valdarno una tappa del suo tour dove racconterà la sua storia in musica, dai successi ai brani dell'ultimo album un'occasione imperdibile per ascoltare Francesca Michelin dal vivo. Sul palco ci sarà spazio per ricordi, cambiamenti, esperienze, incontri, parole chiave da condividere e vivere con il pubblico di sempre e con chi l'ha conosciuta di recente. E ieri sera la Fortezza Medicia ha ospitato la terza edizione dell'Aquila d'Oro. Vediamo. Il ritmo della fanfara dei bersagliari di Siena ha aperto la serata ospitata dalla Fortezza Medicia. Ad Arezzo è così tornato il premio Aquila d'Oro, una notte di premiazioni, esibizioni e di intrattenimento con un filo conduttore celebrare i valori dello sport. Quest'anno nel ricordo di Giorgio Cerbai, delegato a Retino del Coni di Arezzo dal 1993 al 2021, scomparso lo scorso maggio e al quale è stato intitolato un premio speciale. Con questo evento la ginnastica Petrarca, anche con il nostro patrocinio e con la nostra sezione speciale dedicata ai giovani, vuole dare evidenza e risalto a quelli che sono i valori intrinseci dello sport e quindi tutte quelle qualità che servono per fare sport indipendentemente dai risultati, ma l'impegno, la resilienza, la voglia di impegnarsi sono componenti fondamentali di chiunque faccia sport a qualunque livello ed è giusto che ci sia anche questo tipo di riconoscimento. Tra i protagonisti della serata, Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana, al quale è stato consegnato il premio Aquila d'Oro, il valore nel successo. Questo premio è sicuramente una bella soddisfazione, insomma ringrazio in primis la società Petrarca che mi ha contattato e hanno deciso di donarmi questo meraviglioso premio, quindi lo custodirò insieme a tutti gli altri. Tra i premiati nella categoria resilienza, il presidente delle Misericordie d'Italia ed ex angelo custode del Papa, Domenico Gianni. È un riconoscimento che davvero mi ha commosso e mi fa sempre piacere, ecco, l'amore che io ho per la città e anche, insomma, sentire che la città ancora mi vuole molto bene, questo è molto bello. Ecco, i giovani, i giovani sono un tessuto molto importante della nostra società, dobbiamo dedicare molto tempo a loro, spendere e investire su di loro. E lo sport credo che sia davvero un catalizzatore, una cosa molto importante perché esprime i valori positivi. Il premio Etica e Fair Play, infine, al gruppo sportivo Vigili del Fuoco e alla direttrice del Museo Archeologico Mecenate. Sono veramente molto grata alle associazioni e alle istituzioni per questo prezioso premio che vede me, il mio lavoro, ma soprattutto riconosce anche l'importanza per la città dell'istituzione e museo alla quale, come dire, mi dedico con tanto amore e tanta passione. E intanto la cena in bianco di Arezzo Fallamplein. Saranno infatti oltre 700 i commensali vestiti di bianco che domani, giovedì 13 luglio, siederanno intorno alla candida tavola imbandita sul mattonato di Piazza Grande ai piedi del loggiato vasariano. Una cifra record raggiunta per la quarta edizione dell'iniziativa lanciata dalla Confcommercio Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo e la Fraternita dei Laici. Oltre al contributo di Banca Popolare, Centro Porsche Arezzo e Toscana Promozione Turistica nell'ambito del sostegno ai centri commerciali naturali. Tra gli invitati sono attesi anche il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca e il questore Maria Luisa Di Lorenzo. Ad accoglierli il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e il presidente Aldo Cursano. E adesso passiamo alla pagina sportiva. Partiamo dal calcio perché l'Arezzo calcio ha confermato in blocco il centrocampo dello scorso anno. L'ultimo punto interrogativo riguardava Sebastiano Bianchi, classe 2003, ed è stato sciolto dalla società. Un contratto triennale per il centrocampista finora è rimasto in bilico per un paio di trattative che lo riguardavano. Bianchi, ex sestre rilevante, nell'ultimo torneo di Serie D, ha collezionato 30 presenze, 20 da titolare e 2 gol, conquistando la stima di indiani grazie ad una crescita graduale e costante. 76 in totale le sue apparizioni in quarta serie, con il debutto tra i prof che arriva a 20 anni esatti. E adesso parliamo di karate perché l'aretino Roberto Paglietti conquista il bronzo ai campionati europei master di karate, la prima esperienza internazionale dell'atleta dell'Arezzo Karate 1979, è andata in scena a Tampere in Finlandia ed è terminata con la grande soddisfazione del podio nei 75 kg della categoria 50-55 anni, a conclusione di una positiva serie di incontri con avversari di diversi paesi e continenti. Forte di tre titoli italiani conquistati tra il 2017 e il 2021, Paglietti ha vissuto le emozioni di indossare i colori della nazionale agli European Master Games, che hanno configurato una grande festa dello sport rivolta agli atleti con più di 36 anni di età. E in chiusura parliamo di tennis, nuovo trionfo tennistico per Andrea Papponi, odontoiatra castiglionese con la passione per lo sport e in particolare appunto per il tennis. Si è laureato campione italiano nella 51esima edizione tenutasi a pugno chiuso nel Gargano e nella categoria Medici Over 50, sia di singolare che di doppio in coppia con il collega trentino Stefano Fronza. A giorni Papponi partirà alla volta della Lettonia, dove si svolgono i mondiali di singolo, doppio e a squadre. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.